In solito quotidiano In solito quotidiano Sto curando maggiormente i dettagli di queste opere In effetti sono opere di finisce d'arte A me piacerebbe pensare che sono opere di design artigianato Perché voglio dare una seconda possibilità alla forchetta Quindi la forchetta, lo scumarola, il cucchiaio, comunque queste stoviglie Per dirgli, si è nata per scolare la pasta Però magari potrebbe essere anche utilizzata per farci un'altra cosa Quindi in questo caso il lampadario Quindi questo rimodernare, come anche nelle persone Chiede una persona che nasce, deve fare per esempio la giornalista Non è detto, vorresti sicuramente che tu un domani Lascia il giornalismo e ti metti a fare un'altra cosa Come un infermiere è possibile che faccia l'artista Come nel tuo caso Esatto, esatto, bravissima Vedi che sei attenta Come un infermiere, come nel mio caso Che esce fuori un artista Sicuramente non è nata dall'oggi al domani questa passione No, questa passione non è nata dall'oggi al domani Diciamo che io, fin da piccolo, ho sempre questa predisposizione per l'arte Che è stata un po' deviata dal fatto che non ho fatto l'artistico Volevo farlo, poi alla fine varie cose Non l'ho fatto più Però questa cosa qua, recentemente Qualche giorno fa un amico di Agropoli Mi ha detto, Vincenzo guarda io ti ammiro Perché sì, ho fatto l'iceo artistico, ho fatto l'accademia Ora scolpisco la pietra Però tu sei meglio di me Perché? Perché tu sei vergine a questa cosa Tu non hai incrippi sull'artista La corrente letteraria Che ha fatto un determinato tipo d'arte Però sei perfetto Per questo tipo di genere Di cose, perché riesci subito a cogliere Quello che può piacere Quello che può E sai modificare la materia In questo caso l'acciaio E hai delle idee, secondo me, brillanti Questo mi ha fatto molto piacere Questo detto da una persona che fa arte Cioè lui è nato artista Ha fatto tutte le scuole Ora è un ottimo scultore Mi ha detto questa cosa Mi ha fatto molto piacere Non è nata allora Io praticamente Come è nata l'acciaio Come è nata questa cosa Io sono stato in Argentina nel 2008 Aprile 2008 Perché avevo voglia Insomma di vedere questa terra meravigliosa In quanto io sono un ballerino di tango argentino Quindi sono stato lì Perché volevo Maggiormente Imparare il tango Lì sarà Con il fatto del 2000 Che ha fatto il fallimento finanziario La gente è tutta arrangiata Quindi molte volte Quindi quel poco che avevano Riuscivano a farci dei gioielli E hanno fatto questa forchetta Che ho comprato Che ho a casa Dove era fatta In mal modo Magari mal girata Mal cotta Però era bella Fascinosa Ho pensato Muovate in Italia La rifaccio Sì ci ho messo un po' Per farla Per capire il concetto Poi dopo una volta ho capito E poi mi si è aperto il mondo E da lì Perché no Perché la forchetta è non il cucchiaio Perché il cucchiaino non ha cucchiaino Perché il cucchiaino non ha scomaro Ecco qua Che è nato Insolito quotidiano Perché insolito Quotidiano Perché quotidiano Quotidiano è il nostro quotidiano Cioè noi tutti utilizziamo questi strumenti Per poter mangiare Insomma le nostre famiglie Insolito perché visto in un modo Un po' insolito Insomma abbiamo un modo Di ammirare questa sera La Locanda del Mare Successivamente Sicuramente in altre occasioni Oggetti davvero particolari Come l'appendiabito Il porto ombrello Un vaso Fin anche i gioielli Perché tu prima citavi i gioielli Abbiamo visto anelli Orecchini e bracciali Sì 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 Anche i gioielli sono nati Recentemente Da forse un paio di mesi Un paio di mesi così Perché sì La forchetta dell'Argentina Mi ha portato al concetto Della forchetta Però l'ho rilasciato Questo concetto E sono andato oltre A fare questi oggetti d'arredo Perché volevo arrivare In effetti All'arredo Mi piaceva di più L'idea di avere un porto ombrello Un appendiabito In una casa Però poi il gioielli Comunque sono andato oltre Perché comunque ho visto Che il gioiello Può piacere di più Può comunque avere più presa Nelle persone E quindi è andata questa cosa E quindi sto facendo delle cose Tipo collane O bracciali O collanine O anelli Utilizzando sempre queste forchette Cucchiaie piegate Dove tu Riconosci che è un cucchiaio Però non te l'aspetteresti Che quel cucchiaio Potrebbe avere quella funzione Quindi questa decontestualizzazione Anche di questi oggetti Un'ultima cosa Vincenzo Tu dicevamo prima Fai l'infermiere Come riesci a combinare le due cose Eh Questa è un casino Questo è il tema di discussione Ogni giorno con la mia ragazza Tra l'altro Perché io faccio l'infermiere Lavoro anche sul territorio Lavoro in ospedale E poi devo avere il tempo Di fare queste cose qua Di fare le mostre Di organizzarmi E devo avere il tempo E devo avere il tempo anche per lei Quindi diventa molto No veramente difficoltoso Sono più di un mese E dormo tre ore a notte Vedete un po' in voi Insomma sono un po' È così Vabbè però si può fare Insomma se è una cosa piace Però quello che ti dissi Forse è già un'altra occasione C'è il fatto che Se uno lo fa con passione Se uno lo fa con amore Se uno lo fa con dedizione Verso il proprio lavoro Come io lo faccio Con i miei pazienti Penso che anche per queste cose Così come Anche quei cinque minuti dedicati Per esempio la mia ragazza Quei cinque minuti valgono oro E quindi sono ben curati Ben mirati Così come anche le mie opere Io le penso molto Le mie opere Ah una cosa Che io non disegno opere A me non mi piace disegnare Cioè non sono capace Perché non ho la tecnica Non ho fatto l'ucio artistico Non ho la tecnica del disegno Non lo so disegnare Allora che faccio Io ogni opera Me la penso in testa La penso La misuro in testa Ci faccio tutte le coordinate In tre dimensioni Tutto in testa E poi dalla testa Passo nettamente alla pratica Senza passare al disegno Lo schizzo Quindi è anche difficile Per far capire A chi mi aiuta A saldare a volte E far capire Quello che devo saldare Comunque si riesce Ricordiamo allora Che la mostra In solito quotidiano È visitabile Fino al 19 giugno Alla Locanda del Mare Grazie ed auguri A Vincenzo Opepe A Luca Gargiulo A presto Grazie a tutti E la mostra Torno di Mare